ciao a tutti bentornati in un nuovo video qualche settimana fa ho pubblicato un video chiamato la configurazione più acquistata da voi su amazon praticamente vado a controllare tramite i miei referral link di amazon quali sono le componenti più acquistate per quanto riguarda i pc periodo selezionato in questo caso era il 2020 e sono andato a proporvi due configurazioni una per intel e una per md con le componenti più acquistate da voi oggi grazie a uno dei commenti proprio di quel video ho deciso di registrare le periferiche e tutti gli accessori più acquistati da voi su amazon sempre nell'ambito gaming vi lascio qua sotto il messaggio del ragazzo grazie per avermi dato l'idea molto carina e sicuramente la replicherò più avanti torneranno anche le periferiche più economiche eccetera ma oggi andiamo a vedere quelle più acquistate da voi nel 2020 il primo prodotto è ovviamente una tastiera in questo caso è una tastiera della ok da 105 tasti con tastiera numerico rgb meccanica con degli switch rossi in questo caso ci sono due versioni c'è sia quella con gli switch rossi che blu la più venduta era quella con gli switch rossi quindi senza feedback uditivo un classico switch rosso per chi fosse interessato alla stessa versione ma con il feedback uditivo quindi il clic clic quando si va a premere c'è anche la versione blu in questo caso costa 5 euro in più 60 euro per una tastiera meccanica rgb di questo tipo direi che va più che bene i prezzi delle tastiere meccaniche più o meno partono da queste cifre ci sono anche versioni più economiche senza rgb senza illuminazione o cose quindi vedete voi questa comunque è la più acquistata non la migliore ma va assolutamente bene passiamo al prossimo prodotto ovvero un mouse in questo caso è di logitech e si tratta del g502 personalmente non è un mouse che mi fa impazzire perché è molto molto squadrato come design sui lati sui tasti a me personalmente non piace li preferisco un po più tondi però il sensore ottimo ha parecchi tasti regolazioni il software funziona bene io appunto li preferisco un po più tondeggianti però questo dipende un po da voi questa scelta comunque è veramente ottima sono contento di vedere che il mouse più acquistato non sia una cinesata da 10 euro ma sia un mouse con un sensore decente io ve l'ho sempre detto non serve spendere miliardi per un mouse però prendetelo con un sensore decente non prendete quello con le lucine perché è bellino o altro prendete un mouse con un sensore decente e vi durerà per anni prossimo prodotto ovviamente abbiamo visto tastiere mouse passiamo al tappetino in questo caso abbiamo la versione xl di un tappetino della ok 900 per 400 per 4 mm un tappetino xxl normalissimo senza nessuna grafica nero va benissimo super comodo perché abbiamo tanto spazio sia per tastiera che per mouse ci sono anche le versioni più piccole la versione l da 800 per 300 e la versione m che è solo per il mouse quindi potete vedere voi la versione che preferite personalmente a me piacciono i tappetini sia per mouse che per tastiera perché rendono tutto un po più uniforme e soprattutto io non voglio mai metterci altro sopra il tappetino voglio avere il mio spazio per mouse e tastiera e quello deve essere prossimo prodotto non potevano mancare le cuffie e anche qui abbiamo un prodotto logitech quindi logitech e ok per ora al top e sono le g432 cuffie con microfono 49 euro niente di assurdo sapete che io odio le cuffie da gaming perché non fanno bene né uno né l'altro non hanno un buon microfono non hanno buone altoparlanti eccetera oppure costano tantissimo e diciamo che con la stessa cifra ci si compra sia un paio di cuffie decenti che un microfono ovviamente sono comode perché abbiamo un microfono integrato hanno un software con alcune in alcuni casi riduzione del rumore magari sono carine però diciamo che queste qui per giocare pc playstation xbox switch cellulare funzionano praticamente su tutto quindi vanno bene per il prezzo che hanno assolutamente può essere una buona opzione per giocare e parlare magari in ts o discord con i propri amici o fare videochiamate se volete invece delle cuffiette per giocare in ear si può utilizzare il microfono anche in alcuni modi con un datatore avendo un preamp decente però non ve lo consiglio diciamo che se volete giocare però con delle cuffiette in ear le più acquistate sono le ludos ultra sono delle cuffiette in ear da 12 euro niente di entusiasmante come vi ho detto potete utilizzare anche il microfono integrato delle cuffie con degli adattatori non mi sento troppo di consigliarvelo prendete piuttosto un microfono esterno anche economico ma se volete utilizzarle per giocare o per ascoltare la musica per il prezzo vanno più che bene il microfono non è fenomenale ma ne ho sentiti di molto peggio quindi va benissimo caso qualcuno preferisse delle cuffiette in ear in questo caso wireless le più acquistate sono le xiaomi mi true wireless sono un paio di cuffiette bluetooth 5.0 personalmente non mi fanno impazzire per il prezzo di 29 99 vanno più che bene hanno la loro custodia è un po ingombrante però comunque ci permette di avere delle cuffiette wireless che possiamo usare sia con il cellulare che con il computer possiamo usarle praticamente con tutto ovviamente non è proprio l'ideale per giocare però per il loro scopo vanno più che bene il prossimo prodotto è un monitor in questo caso è anche lo stesso modello che sta utilizzando mio nipote adesso è diventato un setup con doppio monitor magari prima o poi ve lo faccio anche vedere e si tratta di un 24 pollici full hd 144 hertz di samsung il c24 rg 50 nome più semplice si poteva dare comunque è il monitor 144 hertz genericamente più economico su amazon funziona bene a diversi ingressi hdmi quindi se volete utilizzarlo sia per il pc che per la vostra futura console può essere xbox playstation eccetera va bene non è dotato però dell'hdmi 2.1 quindi bisogna ancora un attimo vedere niente di assurdo ma per giocare penso sia uno dei monitor economici che mi sento di consigliare di più costa relativamente poco perché attualmente si trova a 152 euro ma genericamente va anche in offerte intorno ai 129 119 nei rari nei casi più rari quindi se lo vedete a quella cifra lì assolutamente un must buy non mi fanno impazzire le sedie da gaming che ci sono su amazon comunque la più venduta in questo caso è la m favor sedia da gaming poltrona gaming e sedia lussuosa schienale 180 gradi una classica sedia da gaming con design sportivo venduta al prezzo di 159 99 in questo caso con le varie promozioni che amazon sta facendo durante tutto il periodo di novembre fino al black friday c'è un ulteriore sconto del 10 di 10 euro quindi ve la portate a casa a 149 a proposito colgo anche l'occasione per ricordarvi di seguire il canale telegram delle offerte vi lascio il link in descrizione visto che lì trovate tutte le offerte in tempo reale per il black friday ma anche durante la giornata quindi se ci sono schede video disponibili o qualche offerta interessante già che ci sono vi ricordo anche il merch con la maglietta del offline molto carina e ovviamente ci sono anche tutte le nuove felpe per chi non vuole utilizzare delle cuffie o cuffiette o vuole averle a parte abbiamo anche degli altoparlanti in questo caso un kit 2.1 sempre di logitech e sono le logitech z333 un 2.1 niente di assurdo che vi butta giù la casa ma va benissimo per una camera per ascoltare della musica abbiamo il sub che si occupa dei bassi due altoparlanti stereo e il controller che possiamo tranquillamente tenere sulla scrivania per regolare il volume penultimo prodotto prima di vedere un paio di accessori è il microfono il microfono più acquistato ve l'avevo fatto vedere anche in un video vi lascio magari il link nelle annotazioni e si tratta di un kit microfono della newer con un microfono xlr cavo assa pop filter alimentatore phantom per 39 euro e 99 questo kit è abbastanza completo sinceramente fa tanto il fatto di avere un po tutto insieme quindi il cavo l'asta eccetera personalmente mi sentirei di consigliare più magari un microfono usb e comprare l'asta a parte perché tanto questo dobbiamo andare a collegarlo direttamente alla nostra scheda audio quindi se la nostra scheda audio fa schifo diciamo che il risultato non è proprio ottimale con un microfono usb di solito ha un suo dac interno che ci permette di avere una qualità migliore perché è proprio progettato per quel tipo di utilizzo infine sono dato a cercare anche gli accessori o alcune delle cose più acquistate e due erano veramente proprio a un livello assurdo e sto parlando di un supporto per il doppio monitor da scrivania in questo caso è un bon tech uno di quelli che avevo acquistato il 5 ottobre 2019 l'avevo usato per la postazione a venezia credo si tratta di un braccio per doppio monitor niente di assurdo da 13 a 27 pollici quindi se avete 2 32 non va bene con la tacco vesa da 75 per 75 oppure 100 per cento ormai è montato da un anno a venezia non mi ha dato nessun problema ci sono altri migliaia di versioni comunque 27 euro 99 è un acquisto che vi mi sento assolutamente di consigliare se avete due monitor con il vesa vi permette di avere una postazione molto più pulita e soprattutto anche potete regolare il monitor potete potete spostarlo avvicinarlo inclinarlo molto più semplicemente e non avete le basi che di solito occupano parecchio spazio sulla scrivania infine l'ultimo accessorio è un altro prodotto che vi ho fatto vedere in un video ovvero un kit di dampner per la tastiera sono degli o ring di gomma che vanno posizionati sotto ai key caps della tastiera per andare a ridurre il rumore delle tastiere meccaniche adesso non sto parlando del click ci sono due tipi di suoni che fa la tastiera il click fisico ovvero quando andiamo a premere il tasto fa proprio un click il tasto in sé e poi c'è un altro tipo di rumore che è il tasto che va a fine corsa quando la plastica praticamente sbatte contro la plastica in questo caso se avete degli switch rossi ad esempio e volete ridurre quell'effetto lì volete essere più silenziosi andate a comprare uno di questi kit ci sono da 2 euro fino a 17 99 il kit completo per togliere i key caps il sacchettino eccetera ma li potete trovare anche più economici io lo utilizzo appunto sulla mia tastiera con gli switch silver che sono molto simili ai red io lo adoro mi trovo molto molto bene in alcuni casi mi rende ancora più veloce perché riduce la corsa totale del tasto diciamo che mi permette anche di tornare più su velocemente con il tasto e essere un po più di reattivo quindi ragazzi per questo video è tutto fatemi sapere voi che cosa ne pensate e se qualcuno di voi ha questi componenti e magari le ha acquistate appunto tramite amazon fatemi sapere se c'è qualche prodotto che vorreste vedere o qualche altro video di questo tipo sul canale in descrizione trovate ovviamente come vi ho detto prima il link del canale telegram il sito blink my pc e ovviamente anche tutti i vari social e direi che da blink è tutto e ci vediamo con il prossimo video vi ricordo che è disponibile blink my pc il sito perfetto per essere sicuri di realizzare il proprio nuovo computer al meglio spendendo il meno possibile dove è possibile realizzare configurazioni personalizzate oppure scegliere tra quelle proposte in base al prezzo desiderato ovviamente non mancano le offerte in tempo reale e il mio merchandise trovate il link in descrizione